Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dall'anteprima, oggi sì, vi parlo dei miei acquisti del mese di gennaio, della seconda parte del mese di gennaio. Saranno pochi manga, ma secondo me ci sono dei titoli molto interessanti, ma non perdiamoci in chiacchiere. Prima di partire, come al solito, lo sapete, se volete darmi una mano, ci sono un po' di cose che potete fare. Innanzitutto, se siete già iscritti a questo canale, potete lasciarmi un like, un commento e una condivisione, oppure, se siete nuovi da queste parti, lo sapete, se vi piacciono i miei contenuti, potete iscrivervi, attivare la campanella e impostare la voce notifiche su tutte. In questo modo vi arriveranno tutte le notifiche dei video che io carico su questo canale. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché vi voglio mostrare gli acquisti della seconda parte del mese di gennaio 2023. L'ultima volta ci eravamo fermati al numero 27 della Naruto Saga, e invece, in questa seconda parte del mese di gennaio, vi presento il numero 28. Il numero in questione è questo, Itachi, la notte. Passiamo a questo punto ad altri due recuperi fatti sempre in edicola, perché la scorsa settimana ho iniziato questa nuova serie, ovvero The Seven Deadly Sins, e ho recuperato il volume numero 1 e il volume numero 2. Adesso vi mostro le copertine. Volume numero 1, volume numero 2. Di questi due volumi ho letto solamente il numero 1, del quale, peraltro, vi ho già parlato nell'ultimo video relativo alle letture della settimana. Vi sto registrando questo video martedì 31 gennaio, infatti questa mattina ho acquistato il numero 2, e conto di iniziare a leggerlo proprio dopo la registrazione e il montaggio di questo video, quindi probabilmente ve ne parlerò durante il fine settimana. Senza perderci in troppe chiacchiere, così come vi avevo già detto qualche giorno fa nel video relativo alle letture della settimana, il numero 1 mi è piaciuto particolarmente, sono curioso di leggere non solo il numero 2, ma sono curioso di scoprire tutta la storia, perché è la prima volta che leggo quest'opera e davvero voglio trovare una giustificazione, o comunque voglio provare a trovare delle giustificazioni al paragone che si fa con un'altra opera, ovvero con Dragon Ball, e vi cito Dragon Ball per un motivo ben specifico. Vi cito Dragon Ball perché durante la seconda parte del mese di gennaio ho recuperato il numero 18, un volume del quale vi ho già parlato la scorsa settimana, nell'ultimo video, e sì, sono davvero contento di proseguire con questa storia, nonostante ovviamente ci siano tanti difetti, tante cose che ogni tanto fanno storcere il naso, però è sempre bello immergersi nel mondo di Dragon Ball, in questo caso nel mondo di Dragon Ball Super. Detto ciò ci possiamo fermare, questi 4 manga sono i recuperi della seconda parte del mese di gennaio, io vi ringrazio se siete arrivati alla fine anche di questo episodio, vi ringrazio se siete nuovi e siete arrivati a questo punto del video, e come al solito vi ricordo, se siete nuovi, volete darmi una mano e volete supportare questo progetto, potete iscrivervi, attivare la campanella e impostare la voce notifiche su tutte. Se invece frequentate questo canale già da un po' di tempo, grazie per il supporto, un like, un commento e una condivisione sono sempre una cosa gradita. Fatemi sapere sotto nei commenti quali sono stati i vostri acquisti di questa seconda parte del mese di gennaio, o comunque quali sono stati gli acquisti del vostro mese di gennaio, vostro mese personale, e niente, io vi ringrazio ancora una volta e noi ci rivediamo sempre su questi schermi, su questo canale, leggo dunque sono, con un prossimo episodio nei prossimi giorni, perché sì, ci sono già un po' di cose che vi ho preparato. Ciao!